amici di atti sport 24 bentornati in nuova puntata di aspettandola archiviato il terzo turno della fase a gironi delle coppe europee ci aspetta una pirotecnica decima giornata del campionato di serie A non perdiamo tempo andiamo subito a salutare gli ospiti che non possono che essere le bandiere di questa rubrica un abbraccio affettuoso un saluto a Gennaro Perna ciao Gennaro ciao Andrea il solito caro saluto ad Antonio e lo introduci tu come sempre un abbraccio affettuoso anche al collega Antonio Reaccio Antonio ciao a voi e soprattutto agli amici in ascolto Gennaro parto con te entriamo subito nel vivo Napoli Milan nella sfida di cartello della decima di A che partita ci aspetta al Maradona? Allora sono due squadre che arrivano in due momenti diversi nel senso che il Napoli è reduce da due vittorie consecutive una in campionato e una in Coppa in Champions e l'Inter invece il Milan è reduce da due sconfitte consecutive una in campionato e proprio una in Coppa con un girone complicato per il Milan in Coppa e già decisiva potrebbe essere la partita di ritorno contro il Paris Saint Germain mentre il Napoli è ben posizionato in Champions e eh prova a riagganciare i rossonire questo è il tema della partita di uno dei temi della partita di domenica il Napoli a quattro lunghezze dal Milan secondo il campionato eh importante e ghiotta l'occasione al Maradona di poter accorciare le distanze però e qui poi lascio la parola ad Antonio per eventuali analisi tattiche dico che il Napoli comunque non convince ancora proprio dal punto di vista tattico una squadra che seppur reduce da due stati consecutivi importanti non ha ancora a mio parere trovato quell'equilibrio tattico che le consente che le possa consentire di eh di trovare una striscia di risultati risultati importanti è chiaro che arrivare a questo match con due vittorie è sicuramente un viatico importante per dare ecco proprio inizio a quella striscia di cui parlavo poco anzi. Antonio stuzzicò proprio te allora come si svilupperà questa sfida a scacchi tra Garcia e Pioli che è reduce da una bella bastonata presa a Parigi? Oddio l'avversario comunque era di quelli importanti rispetto diciamo a tanti altri un pochettino più come dire eh abbordabile poi quando Mbappé decide di 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 giocare secondo me è uno tra i tre più forti al mondo in questo momento. Detto questo però non dimentichiamo che Pioli nelle ultime uscite riesce sempre ad incartare o quantomeno rende eh rende la vita difficile alla alla squadra azzurra quindi eh Pioli al diciamo è un po' come italiano no? Che è difficile da superare per il Napoli sarà perché è bravo non lo so però rende sempre tutto più difficile. Eh l'umore in questo momento in casa Milan non è dei migliori e non non escludo eh un un passaggio a tre in difesa anche se eh dovrebbe cioè è squalificato ciao ehm non escludo eh sicuramente vedremo una marcatura eh su sullo Bottica credo da parte di Adlise dovesse essere lui o o Crunici chi dei due dovesse diciamo essere schierato dal primo minuto e il Napoli deve deve in qualche modo cercare di sfruttare questo momento anche sulle ali dell'entusiasmo e come diceva Gennaro accorciare proprio se i rossoneri che sono secondi in classifica quindi mi aspetto una partita eh arrembante da parte del Napoli che che ne dica qualcuno che magari Garzia tende prima a a contenere per poi partire invece questa volta deve dimostrare di di avere il pallino deve prendere il pallino del gioco deve deve attaccare deve sfruttare il fattore Maradona perché sarà uno stadio pieno e quindi la gente si aspetterà anche eh diciamo qualcosa di più dal Napoli ha un giorno in più di riposo nelle gambe il che non è mai non è mai male e quindi mi aspetto una una bella partita da parte del Napoli Gennaro quali emozioni ci regalerà la sfida del Meazza Inter Roma? Allora due squadre sicuramente capaci di di ottenere di ottenere risultato pieno e quindi il massimo risultato possibile è chiaro che l'Inter è sicuramente più attrezzata eh in termini di rosa e anche se sono due allenatori che non prediligono onestamente il bel calcio il calcio e il calcio estremamente propositivo sono due allenatori che hanno eh tendono ad avere le squadre equilibrate a cercare di non subire e ottenere casomai il massimo risultato col minimo sforzo. Eh detto questo eh il ritorno di Lukaku contro l'Inter sarà sicuramente un elemento interessante dal punto di vista diciamo così giornalistico perché eh Lukaku aveva dimostrato eterno amore ai ai nero azzurri eh senza poi diciamo riuscire a coronare quello che sembrava che poteva essere un sogno forse opportunistico e quindi poi andare sulla sponda giallorossa dove devo dire sta facendo bene la Roma è reduce da un po' di vittorie consecutive una squadra in fiducia sul piano del risultato è chiaro che non ci si può aspettare il bel gioco da Murigno ma io penso che l'allenatore portoghese avrà avrà tutta la voglia di fare uno scambetto ai suoi ex colori nero azzurri. Eh io devo suzzicare Antonio a questo punto è più forte di me. Antonio te la ti indoro la pillola però non vuoi essere cattivo. Inzaghi Murigno è la sfida del calcio pragmatico. La sfida del calcio sparagnino diciamo così prima non prenderle e poi cercare di fare qualche gol in questo e questo diciamo in questa coppia io ci inserirei anche Allegri che più o meno è sulla falsa riga da questo punto di vista sarà una partita tra l'altro ci hanno pure diciamo numericamente dei moduli di impostazione del gioco molto simili no? Tre cinque due e secondo me premesso che che l'Inter sulla carta è favorita perché gioca in casa perché è più forte perché ha due giorni in più eh di riposo rispetto rispetto alla Roma eh però secondo me la partita si deciderà con con le difese entrambe le squadre hanno eh due attaccanti fortissimi soprattutto Lukaku da una parte e Lautaro Martinez dall'altra quindi secondo me tutto si si deciderà sulla bontà della fase difensiva delle due squadre. Chi riuscirà a farla meglio a contenere gli attaccanti avversari probabilmente la spunterà però eh credo che ripeto come dicevo prima l'Inter ha qualche chance in più anche perché poi eh un'alternativa sulle fasce con eh Don Fris e Di Marco l'Inter ce l'ha dall'altra parte dovrebbe giocare Karlsdrop che non mi fa impazzire e Spinazzola che è un buon giocatore però è molto portato diciamo alla fase alla fase offensiva e quindi potrebbe lasciare qualcosa qualcosa alle sue spalle quindi eh sono 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 per gli attacchi contro le difese e chi riuscirà a contenere meglio vincerà questa partita. Gennaro nel Monday Night si chiude il trittico di partite di alto livello di questa giornata per chi pesa di più la posta in paleo tra la Lazio e la Fiorentina? Allora io mh allora in classifica queste due squadre sono a quattro punti di distanza la Fiorentina è reduce da una brutta sconfitta con l'Empoli eh dove il buon Andrea Azzoli è riuscito a imporre anche una leggera lezione di calcio almeno offensivo al eh al tanto diciamo chiacchierato in positivo italiano e dall'altra parte mentre la Lazio eh reduce da una vittoria col Sassuolo che in campionato ovviamente che che la rilancia un pochettino anche in termini di classifica eh sicuramente secondo me la partita è paradossalmente importante per la Lazio per risalire questa rincorsa al quarto posto che la vede a distante quattro lunghezze proprio da da Napoli e Fiorentina se non erro ma dall'altro canto è molto importante anche per per la Fiorentina l'italiano perché dovesse avere eh due sconfitte consecutive si perderebbe tutto eh quel bel parlare quel bel dire su un allenatore che era stato capace di vincere contro Napoli in leggera confusione tattica quindi è interessante il risultato secondo me è molto molto pesante perché dopo questa partita si potrà iniziare a parlare bene di nuovo di Sarri e cominciare a a rimettere italiano in una posizione di normalità viceversa si potrebbe invece cominciare a parlare di questa nuova scuola di allenatori italiani già se ne parla come italiano e cominciare a mettere Sarri tra gli allenatori diciamo che hanno segnato la storia del calcio italiano ma cominciano avere un leggero decreto. Antonio eh passiamo direi un contrasto di stili rispetto alla precedente domanda passiamo dal calcio sparagnino è un po' bruttino al calcio di chi ama giocare col pallone di chi ama proporre trame di qualità ti chiedo alla luce di questa premessa che sfida sarà tra Sarri e Italia. Sarà una sfida molto spettacolare eh al di là della differenza generazionale che eh diciamo diceva di cui parlava prima Gennaro sono due allenatori molto simili due allenatori che hanno a chiamano avere le linee molto corte la difesa alta altissima per la Fiorentina e giocano molto sulle fasce con sovrapposizioni e e tagli verso verso l'area di di cori. Eh giustamente tu dicevi a differenza di quello che si diceva prima questa è una partita tra due allenatori ripeto che vogliono fare vogliono condurre amano condurre la la partita amano avere il pallino del gioco e eh la la danno danno sempre una un'impostazione tattica molto evidente alle squadre che allenano per cui eh dovrebbe uscirne fuori una una partita con tanti gol e secondo me chi potrebbe avere eh chi potrebbe avere un un ruolo determinante in questo momento in questa partita potrebbe essere Bonaventura che è un giocatore che a me piace tantissimo nonostante la sua età è sempre determinante e eh siccome si stacca dalle tra le linee e fa movimenti e inserimenti per via centrali la squadra di Sarri le squadre di Sarri questo tipo di di atteggiamento lo soffrono per cui potrebbe essere potrebbe essere questa diciamo la chiave tattica della partita saremo a vedere perché sicuramente sarà una gara molto molto spettacolare. Gennaro parliamo di Juventus quanto pesa per i bianconeri il recupero del tandem Chiesa Vlaovic? Allora dovrebbero essere come tu dicevi entrambi entrambi disponibili per per la partita sono due giocatori fondamentali per finalizzare diciamo così il non gioco di Allegri cioè eh Allegri è una è un allenatore che ha una discreta importante fase difensiva e poi si basa sulle individualità offensive come diciamo prima con Antonio non è un allenatore che propone calcio e e quindi la presenza di due calciatori come Vlaovic e Chiesa sarà sicuramente determinante in una partita che la Juve contro il Verona che la Juve deve vincere proprio per sia per alcune difficoltà all'avversario in questo momento sia perché dare continuità eh alla vittoria contro il Milan lancierebbe veramente la Juve come una delle candidate allo scudetto ecco quindi non potrà più nascondersi eh è una squadra di ricostruzione è una squadra che gioca male al calcio ma ormai lo fa da anni però sul piano del risultato potrebbe essere una delle serie candidate allo scudetto. Antonio quali rischi presenta per l'Atalanta alla trasferta di Emboli? Eh allora l'Atalanta ha sciupato una grandissima occasione nella in Europa League vinceva ha subito un gol con l'avversario in dieci e ha dimostrato qualche crepa nella fase difensiva. L'Emboli eh con il nuovo allenatore Andrea Azzoli sembra aver ritrovato la diciamo la dire la la retta via è un po' diciamo una forzatura però si sta tirando pian piano fuori da da una situazione delicatissima. Sicuramente eh i Toscani non avranno nulla da perdere e questo potrebbe essere un fattore che gioca che gioca a favore a favore del proprio dei dei Toscani per cui eh l'Atalanta dovrà fare molta attenzione perché queste sono quelle partite scivolose per l'altro le fatiche di Coppa come diciamo spesso sono sempre eh si fanno sentire per cui occhio occhio alla squadra di Gasperini perché l'Emboli potrebbe tirare un un brutto scherzo in terra europica. Gennaro chiudo con te quali novità ci riserverà la lotta per la salvezza? Questa sera c'è un Genova salernitana che ha molto da dire. Sì allora la salernitana eh è sicuramente una delle squadre più in difficoltà in difficoltà di questo campionato mentre il Genova è invece una squadra che ha una sua identità con Girardino e riesce sicuramente a a a espresso fino adesso un buon calcio. L'arrivo di Pippo Inzaghi con il pareggio ha sciuffato in estremis dopo eh il doppio svantaggio e doppio diciamo recupero da parte della salernitana contro il Cagliari ha sicuramente visto i campani eh rinascere dal punto di vista mentale almeno in termini di consapevolezza e cattiveria agonistica. Vedremo cosa cosa accadrà ma sicuramente in queste partite tre punti sono fondamentali. Cagliari e salernitana e anche Udinese sono tre squadre che devono cominciare a fare risultato perché se l'Empoli ha iniziato con Andrea Azzuola ad invertire la rutta queste tre squadre sono invece eh tutte e tre in totale difficoltà in questo momento. Va bene siamo così al termine di questa chiacchierata ringrazio Gennaro Perne e Antonio Rea per averci fatto compagnia do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao ragazzi grazie. Grazie a te Andrea un saluto a tutti i spettatori ad Antonio. Ciao un saluto a tutti e sempre un piacere colloquiare con voi.